Grazie a tutti Se dovessi fare riferimento ai film visti da bambino dovrei andare a cercare quelli Buzz Spencer e Terence Hill visti al cinema con mio padre, anche quelli sono ricordi epici, o quelli visti all'Oratorio delle Grazie per rimanere, i film dopo la messa, 100 lire e andavi, 500 lire e andavi dopo la messa. Devo dire che tra i film citati qua io mi ritrovo come appassionato in quello che in maniera anche, in questo caso sorprendente, Bruno Tognolini ha messo come suo libro del cuore, cioè Apocalypse Now. Film, non libro. Film. Libraio. E' abituato a parlare di libri, non c'è niente da fare. No, perché pensavo che lui scrive libri per ragazzi, per bambini, quindi... E invece ha pensato a un libro che... Un film. Vedete? No, è proprio... Sono tarato, sono tarato, un film che quanto di più lontano in teoria sarebbe dai libri per ragazzi, però è un film che a me è piaciuto tantissimo, lo vidi all'ora di 16-17 anni, quindi lo vidi in televisione peraltro, neanche al cinema, sono ancora in attesa che qualche sala lo ritrasmetta perché per quanto mi piacca in televisione sicuramente visto al cinema, voi mi sarete testimoni, adesso è una cosa eccezionale. La completezza del film, ma anche alcune immagini, io mi ricordo il protagonista che emerge dalle acque stagnanti del fiume, mentre i fuochi dell'accampamento del gruppo dei tagliatesti di Marlon Brando brillano nella notte, beh, quelle sono immagini di grande cinema. Che in tv non... Che in tv non rendono, ma con i paesaggi enormi, che in tv non rendono, però la potenza del film è chiaramente... La prefazione del libro che verrà presentata alle 18.30, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, alla biblioteca Assata di Nuoro, quindi fra poco più di mezz'ora, è la prefazione di Irene Bignardi. Spero abbia chiesto a Irene Bignardi qual è il suo film preferito. Ma anche lei è molto imbarazzata in realtà, perché poi soprattutto... Non è facile però dire un solo titolo, cioè adesso se uno gli poni come tu nel gioco, ne devi dire solo uno, è diventa un problema. Se tu accetti le regole, butti purtroppo, devi rinunciare a qualcosa. E' come buttare alla torre... Però ecco, a questo proposito, secondo me c'è una cosa... Non è soltanto un problema di quantità, no? Più ne ha visti di film e più si senti l'imbarazzo. E' anche il fatto che il cinema, soprattutto se è iniziato a guardarlo da bambino, ti accompagna o ti ha accompagnato per tutta la vita. E quindi ci sono dei film. Dico un'altra stupidaggine, perché poi i viaggi in macchina da soli servono a molto. Venendo, c'avevo la radio accesa, sempre che stavo cercando la radio barbagia, bravo. E ho beccato radio... No, adesso non mi ricordo se era radio sintoni o latte e miele, boh, questi capolavori qua. E c'era una canzone di Baglioni, ok? Una canzone di Baglioni di un disco che manco più mi ricordo. Era dell'inizio degli anni 90. Fece un doppio. Adesso siamo in radio. Eh, cioè, allora, siamo in radio e siamo con l'unico vero cultore... Eccolo qua. L'ho trovato subito. È un mito. Fanta, oltre. C'è il nostro tecnico che ci sta facendo vedere già la copertina. Io sono... Lui è avanti, eh. Fantasma, non voglio dire. Allora, sono contento perché lui sa di cosa sto parlando. Quel doppio di Baglioni, a me capitò, insomma, in un periodo della mia vita, in cui c'avevo dei casini sentimentali, che a metà mi bastavano. E spero mi basteranno per tutta la vita. Dov'è in voi? Io ho sentito quel disco, come si può... Ha fatto parte in maniera midollare di me. E stiamo parlando di Baglioni e io, diciamo, non sono esattamente poi uno che perde la testa per Baglioni. Beh, succede che se io oggi dovessi dire che il mio disco della vita è quel disco di Baglioni, sbaglierei. Ma sbaglierei perché, appunto, come i film, ci sono delle cose che fanno parte dei momenti. Anche in quel momento magari arrivano in profondità con degli cazzottoni. Dire a posteriori che il tuo film preferito è quello vuol dire che decidi in quel momento di assomigliare a un te stesso che non c'è più. Quindi è un'assunzione di responsabilità molto pesante. Questo è l'imbarazzo, poi, ecco. Quindi anche la Bignardi, voglio dire, fa, diciamo, un ragionamento sui film che l'hanno accompagnata. Molti di questi film, poi, voglio dire, sono anche... Qualcuno si è anche censurato, no? Se sembrava brutto dover chiacchierare a lungo, magari, non dico su Bud Spencer e Terence Hill, ma su film che magari ti hanno segnato perché a 13 anni sei entrato in un cinema e hai visto una cosa che ti ha preso a sbaglio. Io ho visto Fantozzi, per dire, a 13 anni e mi sono... E tuttora mi diverto come una scimmia a vedermi Fantozzi perché è una cosa assolutamente irresistibile. Poi, forse, più di mezza paginetta non potremmo parlare di quel film. È un film che sta dentro un ambito della commedia divertente, assolutamente irrinunciabile, ma è quella cosa lì. Pierfranco, la presentazione alle 18 e 30... La presentazione alle 18 e 30, beh, ci introdurrà il direttore della biblioteca Tonino Cugusi e poi faremo una bella chiacchierata con Sante e mi auguro che il pubblico poi interagisca perché comunque sono tematiche e personaggi noti a tutti e quindi sicuramente c'era spazio per una bella serata e una bella chiacchierata. Mi viene in mente un altro film, se posso, in chiusura. Non ci mancherebbe. Ve lo ricordate? Era un film con Meryl Streep, aveva a che fare con una centrale atomica che perdeva radioattività. Silkwood, possibile? Silkwood, bravo. Un film, anche quello, l'ho visto a meno di 20 anni. Meraviglioso. Bravissima Meryl Streep. Prima dell'esplosione di Chernobyl fece capire, forse, che cosa significava la radioattività persa. Sì, a me soltanto riapriamo qualche altra centrale nucleare e tornerà di autorità. Auristano, vicino a casa di Flavio, che si diverte lui. E così non ci sono problemi. Allora, sono stati i nostri ospiti, come al solito tutti i venerdì, Pier Franco Fada, che oggi ha presentato il libro del giorno, il libro e il film del cuore. Non solo ha presentato il libro del giorno, ma ci ha portato in studio l'autore del giorno, uscito dal frigorifero. Sant'Emaurizi, che adesso si trasferisce in biblioteca per presentare il libro, un libro che spero ti abbia atto nello scrivere e grande soddisfazione. Assolutamente. Poi lo sto presentando in giro, devo dire, dovunque sono andato fino adesso, anche ultimamente a Sant'Antiocco e degli amici fantasmi. Ci si diverte molto a chiacchierare di cinema, ecco. Ecco. Grazie al libro. Allora, credo che la frase più bella sia stata, da pari tua, almeno quella che a me ha colpito di più, che questo è un gioco, è un gioco comunque importante e anche un gioco intelligente, perché insomma ricordare quello che ti ha affascinato e colpito nel corso della tua vita, credo sia comunque ripercorrere un po' gli anni della tua vita. Assolutamente. Quindi abbiamo tutti noi alle spalle, ahimè. E anche davanti, adesso non buttarti giù. Non ci mancherebbe, e voi vedi, dall'altra parte stanno già salutando, quindi non c'è proprio... Grazie. Io ringrazio Sant'Aulizio, ringrazio Pierfranco per essere stato con noi, l'appuntamento con i libri, come sempre, venerdì, ma forse riusciremo ad avere una sorpresa mercoledì. Forse avremo una sorpresa mercoledì, abbiamo un'altra presentazione, quindi mi auguro di portarvi un autore fresco di giornata anche mercoledì prossimo. Grazie, chiaramente la musica adesso, baglione. Vai. No, 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 ha detto di no, è vero, non è stato pronto. Ecco, però adesso riesce a sistemare tutto in diretta. Tutto in diretta e ci devi dare, mandare il brano che per te è più significativo di quel disco. Non fare così, ce la puoi fare, grazie.